segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora cosa abbiamo domandato agli italiani questa settimana una sera sondaggio di oggi era incentrato sulla guerra e emerge anche questa settimana un quadro come dire di un certo disorientamento tra gli italiani rispetto all'evento bellico e qualche cambiamento rispetto alle settimane precedenti vediamo con il primo cartello abbiamo chiesto a questo punto del conflitto tra la russia e l'ucraina cosa dovremmo fare allora vedete vedete quasi due italiani su tre ritengono che dovremmo alleggerire il sostegno l'ucraina e trovare un modo per dialogare con putin però uno su quattro ritiene che dovremmo continuare a fornire armi e sostenere la resistenza dell'ucraina ed è un dato decisamente più presente tra gli elettori del pd per esempio tra le persone più scolarizzate e così via poi abbiamo parlato della nostra appartenenza la nato che cosa pensano gli italiani abbiamo proposto due frasi lo vediamo con il secondo cartello e qui vediamo che le opinioni sono decisamente più divise il 44 per cento quindi la maggioranza relativa ritiene appunto che l'italia partecipi giustamente nel suo interesse alle alleanze in cui fa parte come come la nato però c'è un 39 per cento che viceversa è un po critico perché ritiene che l'italia sia troppo filonato e sia condizionata dagli americani contro l'interesse del nostro paese